Musica Sono sempre qui per Mythos e sono contenta di incontrare Luca Russo io guardo in alto perché dopo vi faremo vedere per immagini e repertorio un'opera che mi è piaciuta tantissimo Luca io sono felicissima di incontrarti tu sei comunque parte attiva del comics voglio dire, abbiamo una star stasera qui e abbiamo anche il tuo ultimo lavoro che è Notte Tempo quindi doppiamente felice di essere qui Sì, è un piacere mio perché è anche qui a Magna Grecia è un posto che adoro in cui vengo da tanto tempo quindi è un piacere esporre insieme ad altri artisti in questo posto Notte Tempo è in promozione ci siamo strappati una promessa insomma lo porterò anche io in giro da qualche parte raccontiamolo brevemente Allora, è il mio primo libro, è il mio primo graphic novel che mi vede non solo come disegnatore ma come autore completo ossia autore dei testi, dei disegni, dei colori precedentemente avevo fatto altri graphic novel, altri fumetti ma come disegnatore sono passato alla scrittura con questo libro è un ponte tra i lavori precedenti e quelli che verranno Notte Tempo è una storia particolare in molti giornalisti mi hanno chiesto se fosse autobiografica perché mi hanno detto è così sentita che deve essere autobiografica Per forza In realtà di autobiografico c'è l'emozione che volevo raccontare e ho delegato dei personaggi di invenzione un'ambientazione del tutto inventata per raccontare l'emozione quindi non i fatti ma l'emozione che ne esce fuori In brevissimo è la storia di un pianista, di un artista famoso che si trova ad aver perso il suo equilibrio ossia quello che c'era tra due donne che già sembra strano una è sua moglie, la musa di sempre Giulia con cui è cresciuto artisticamente nella vita la sua compagna e la sua musa di sempre l'altra invece è un fantasma il fantasma dell'arte che si aggira da sempre nelle camere della sua stanza della sua casa e della sua mente Qual è la rottura dell'equilibrio? Per dei motivi che non dirò perché sono importanti nella storia sua moglie si allontana da lui non dico in che termini però questo fa sì che l'arte l'altra donna non gli parla più e quindi cade l'ispirazione e lui va in crisi nell'arco di una sola notte tra realtà e onirico lui va alla ricerca di se stesso per trovare se stesso deve ritrovare la moglie per ritrovare l'arte per ritrovare la musica ci riuscirà o no? Non lo dico No, lo dovremmo scoprire insomma guardandolo E la caratteristica particolare che ho cercato di raccontare è attraverso il colore il colore a un certo punto diventa il vero narratore della storia e nei quattro capitoli che formano il libro i quattro capitoli raccontano i quattro stati d'animo del protagonista attraverso il colore e dell'impresa di ritrovare se stesso attraverso la ricerca della moglie poi alla fine Allora assolutamente da trovare molto tempo insomma ha lasciato la terra mentre invece c'è questo quadro Partenope si intitola Assolutamente Partenope una città io l'ho interpretata che poi tu hai detto Anna esattamente così sospesa e poi è una Partenope dove ho colto anche un insieme di multiraziale architettonico mi ha fatto pensare alla Turvia al Marocco cioè mi sono catapultata con una sola immagine ovunque con quest'uomo che guarda con dei colori molto particolari una colonna greca insomma sei stato veramente guarda hai preso in un solo momento tutto quello che è la nostra Partenope Io sono romano e di conseguenza per me Napoli ha uno sguardo diverso però frequento Napoli ci abito da qualche anno cioè frequento Napoli da moltissimi anni da più di 20 mia moglie è napoletana e qui quando quando vedo Napoli e cerco di interpretarla la sento attraverso emozioni diverse ovviamente e per interpretare questa Napoli ho pensato nella possibilità di una Napoli futuristica e futuribile ho pensato che anche fra mille anni Napoli conserverà sempre la sua potenza antica e quella la sua caratteristica di essere sospesa sul mondo nello spazio per questo è sul mare perché è fondamentale il mare per cui per quanto possa sollevarsi diventare appunto futuristica e quindi rimanere sospesa conserverà sempre si arroccherà nella sua storia e quindi non potrà mai perdere la sua caratteristica antica assolutamente e quindi raccontare la sua storia sempre allo stesso modo il fatto dell'essere sospesa è proprio quello ho immaginato Napoli è una città estremamente viva anche rumorosa se vogliamo allora mettere Napoli sospesa sul mare e creare un silenzio in realtà era quasi un'immagine complementare di se stessa però quella è stata l'immagine futuristica che ho visto però è un po' come vedere Napoli dall'alto cioè vedere Napoli da San Martino per esempio vuol dire vedere una Napoli apparentemente silenziosa che è piena di caos di dubbi di suono e quindi il bello è quello il punto di vista cambia ma in realtà il cuore resta sempre quello e quindi ho cercato di raccontare questa distanza vicinanza della città allora io ringrazio due volte Luca lo ringrazio Luca Russo per le opere bellissime che lui fa ma soprattutto per come ci racconta mi racconta e ci racconta Napoli da non napoletano ma da chi ha imparato ad amarle a guardarla da una prospettiva diversa e forse in maniera anche più vera meno conflittuale quindi ti ringrazio veramente tanto Luca e ci vediamo presto grazie a voi grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti